Un fratello e una sorella sassaresi, i triatleti e i vincitori a Balai. Domenica scorsa si è tenuta la prima edizione del triatron olimpico Golfo della Sinara, organizzata dal triatron Team Sassari in collaborazione con il Comune, con una star list di circa 180 partecipanti e 20 team nella gara staffetta. A primeggiare un uomo e una donna d'acciaio, Filippo e Alice Capone, che hanno vinto nelle distanze che regolano la gara alle Olimpiadi, 1500 metri a nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa. Temperature miti e pieno sole, lo scenario meteo per gli atleti alla partenza sul lungomare di Balai, una cornice perfetta per una gara ad alto tasso di spettacolarità che non ha risparmiato emozioni dall'inizio alla fine ai tifosi presenti. Monto combattuta la prima frazione acquatica, partita dallo scoglio lungo e conclusa a Balai per il cambio con continui avvicendamenti in testa. Il ligure Simone Grinza spunta delle onde per primo ma viene presto superato da Capone, ciclista consumato e runner d'eccezione, che trionfa col tempo di 2 ore e 6 minuti precedendo Giovanni Curridori dello 3-3 team. Fino all'ultimo respiro anche la competizione femminile, che ha registrato il primato finale della Capone grazie alla sua esperienza nel duathlon, con il cronometro fermatosi su 2 ore e 19 minuti. Da segnalare la grande rimonta di Claudia Pinna, prudi primatista sarda dal mezzofondo del Fue Triathlon di San Gavino, arrivata seconda. Grazie. 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 Grazie.